Il secondo ha più uno sugli avversari Ha segnato due reti dimostrando di essere in grande forma Gli avversari dovrebbero cominciare a marcarlo un po' più stretto Ecco il gol che ci viene mostrato da un altro inquadratore E questo era il suo terzo volo È davvero una forma strepitosa Possiamo apprezzare meglio quando a questa nuova inquadratore Grazie